Ma è giusto bagnare adesso? No, sarebbe meglio bagnare o di mattina presto o di sera tardi. Si fa come si può. Perché me lo diceva sempre mio papà. Esatto. No, non è giusto bagnare adesso, però si fa col tempo che sia. Sono delle piccole serre d'inverno. Diciamo che è un giardino in stile greco romano. Ma in realtà io volevo farlo nella forma di un chiostro, ma siccome non mi è venuto il quadrato in mezzo, mi è venuto meglio tondo. E' un orto già vivo. Poi l'ho fatto tutto tondo. No, perché tu l'hai fatto così tutto a... Non è stato proprio... Voleva essere, si, in forma di un chiostro. Vedete, posso innassiare... Ah, ti posso far vedere... Questa è una misura anticoniglio, purtroppo. Questa è l'aiuola delle aromatiche. Qua c'è un pruno che ho messo l'anno scorso, quindi comincerà forse quest'anno a fare le prugne. Eccole qua. Anche io a casa ho delle erbe aromatiche, solo che mi dispiace tagliarle e prenderle. E anche a me? Cosa? Ho il rosmarino, il timo, così, ma mi dispiace prenderlo. Vedi il rosmarino... Sì, ma tanto ricresce, eh. Lo rosmarino continua a ricrescere, quindi... Poi mi hanno detto che la menta allontana gli afidi e quindi ho messo questi rami di menta sul pruno, sperando che funzioni. Poi qua c'è la malva, che non so ancora come si usa, però fa dei suori bellissimi. Nel minestrone? Nel minestrone. Nel minestrone tutto il malva? Sì. Ah, va bene. Proverò. Con la malva? Sì. Una volta si curava il mal di denti. Con la malva, eh. Con la malva si curava il mal di denti. Ah sì? Sì, sì.